Silvio Barnabai è dall'anno scorso il preparatore atletico della palcamestra Pengeometis Varese, lo abbiamo incontrato qui a Bormio tra una partita e tra l'altra, quindi tra il Galatasaray e l'Efes. Può farci il punto della situazione del lavoro fatto fino adesso, prima a Gressonei e poi in questa seconda fase, anzi terza, perché prima di Gressonei c'è stato anche un po' di lavoro a Varese, al palazzetto. A che punto siamo? Ciao a tutti, intanto siamo arrivati al ventesimo giorno, oggi ci apprestiamo a fare il terzo scrimmage. Abbiamo quasi completato la prima fase della preparazione, preparazione divisa in due. La prima parte, primissima parte, come tu anticipavi fatta a Varese, l'abbiamo utilizzata per analizzare e conoscere meglio i nuovi giocatori, quest'anno tra l'altro sono quasi tutti nuovi. Quindi capire anche un po' il loro pregresso da come si muovevano, non soltanto dalle notizie reperite. E devo dire che è stata una prima fase molto molto proficua, che ci ha anche dato la possibilità di accelerare un pochino i tempi. E pertanto siamo passati quasi subito nel secondo microciclo di lavoro, cioè quello che poi prevede anche i trasferimenti avanti e indietro durante gli allenamenti e anche delle mini situazioni gara durante gli allenamenti. Completato questo microciclo siamo arrivati alla fine di Gressonei, dove abbiamo fatto il primo scrimmage e poi siamo arrivati qui a Bormio, ancora tutti insieme, tranne Jason Clarke che ha subito un infortunio ma stiamo già lavorando sul suo recupero. E pertanto la squadra si sta muovendo tutt'assieme e sta cercando di trovare un equilibrio unico, in quanto man mano che passavano i giorni ci siamo accorti di avere una squadra non proprio sullo stesso livello dal punto di vista fisico. Mi riferisco sia per la disponibilità di forza sia alle capacità di endurance nello sforzo specifico. E pertanto utilizzeremo quest'altra metà settimana per completare il primo blocco di lavoro e poi essere pronti a cominciare il secondo blocco di lavoro lì a Varese. E con una curiosità, una partita ieri alle 18, una oggi alle 18, come si recupera e lavora in questo arco di 22 ore tra la fine di una e l'inizio dell'altra? Qual è la parte su cui è più necessario intervenire? Ma guarda sicuramente la parte muscolare è articolare, infatti siamo stati attenti all'alimentazione ieri, quindi a riempirli di cibi ricchi di vitamine, perché tra l'altro è un periodo in cui fa molto caldo e pertanto perdono molti liquidi. Abbiamo reintegrato anche con i giusti integratori e poi abbiamo puntato a terapie del freddo e del caldo per aumentare un po', migliorare, accelerare con la ginnastica vascolare il recupero dallo sforzo. E oggi invece cosa hanno mangiato i giocatori? Oggi siamo andati molto leggeri, siamo entrati nel pranzo pre-gara classico, quindi cibo sostanzialmente in bianco, carne bianca, pochissimi condimenti, molte verdure. Grazie mille. Grazie a voi per l'interesse. Grazie a voi.